Dopo lunghi sette anni ha preso avvio nelle aule del Tribunale di Arezzo il processo nei confronti degli imputati per la morte del piccolo Stefan Tironiak, il bimbo romeno di appena dieci anni, che il primo luglio 2010 affogò nella piscina Croco da il tramarciano della Chiana e Monte San Savino, un drammatico incidente che avvenne durante i campi solari. Tre in tutti gli imputati, il proprietario della struttura e due educatori dell'associazione Baobab, a cui il comune di Monte San Savino aveva affidato il campo solare di quella mattina. Per i due bagnini presenti quel giorno era stato invece disposto in un luogo a procedere. Quella mattina di sette anni fa il piccolo si trovava assieme ad altri bambini all'interno della piscina, con loro erano presenti anche gli educatori dell'associazione responsabile dei campi solari. Per loro l'accusa di colpa, invigilando, avrebbero infatti dovuto impedire ai bambini di tuffarsi in acqua in assenza dei maestri di nuoto, assenti per un disguido. Stefan Mori ha negato a causa di un colpo al collo ricevuto da un altro bambino, di cui nonostante i ripetuti appelli dei genitori non si è mai scoperta l'identità, che tuffandosi lo colpì in testa. Per il piccolo non ci fu nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento del bagnino. La vicenda, che in questi lunghi anni non era mai entrata nel merito, lo ha fatto martedì mattina di fronte al giudice Gianni Fruganti. Sono stati sentiti testimoni che in molti casi sono stati citati sia dall'accusa sostenuta oggi dal PM Luigi Nicacci che dalla difesa. Tra questi un consulente medico legale che in aula ha spiegato che sarebbe stato l'impatto a causare un forte trauma amidollare al collo. Il piccolo così avrebbe perso i sensi, annegando in pochi istanti. La prossima udienza è stata fissata per il 21 dicembre, ci sarà la discussione e poi la sentenza. Solamente in quella data, a distanza di sette anni, dunque si conoscerà se la responsabilità di quel drammatico incidente è da ricondurre ad una tragica casualità o se quel colpo mortale poteva essere evitato.